Siamo qui giunti a Tarifa per l'imbarco, direzione Tangeri, potete vedere le macchine Capo a compresa pronte per l'espedizione Un bel venticello, ci sono 17-18 gradi e si sta veramente bene Passo e chiudo dalla spedizione e ciao a tutti Attraversando passi lunghi e ben distesi, secchi e disolati Per raggiungere le porte Un bel venticello, un strumento, una strumento regolare Un po' di cavenderia Un po' di costruzione di Mastro, una strumento Il sito come è possibile Per vista Mastro, Mastro siamo arrivati qui in un villeggetto Con Mastro Ceve, che è successo Mastro, raccontaci Sì, sì, sì Sì, ma ti dì, no? Oh, ti dì, no? Oh, ti dì, no? I bambini che ci circondano, non scadarci qui Oddio, oddio Che prossimo sarei domani Fortissimo Ti dìo, viss che non ti dìo Uuuhuuuh ooooh Chi pizza Chi è praticamente Chi CBS È Kimberly PORCO CHE MADO! STASERA DIARREA! Qui Libia! Alla banca, stassi di tutto! Oh, yeah! I thought government made you do what you thought there was a man who knew.